Al via il riscatto di 678 alloggi ATER in provincia dell'Aquila, la giunta regionale su proposta dell'assessore Guido Liris ha infatti approvato il piano di vendita di ben 678 alloggi dell'ATER, l'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale dell'Aquila, con il quale gli inquilini avranno la possibilità di riscattare le unità che occupano. Ad illustrare i dettagli l'assessore Liris, con delega all'edilizia residenziale pubblica e l'amministratore dell'ATER dell'Aquila, Isidoro Isidori, con Serena Parlante Massimo Scimia, del Consiglio di Amministrazione. Il riscatto di alloggi ATER è una delle misure più importanti per i cittadini domiciliati. In questo modo quasi 700 famiglie saranno proprietari delle case che hanno abitato per tanto tempo, lasciando anche una certezza per i propri figli. E a livello infrastrutturale quest'operazione porterà introiti importanti che potranno essere investiti dall'ATER per rinnovare l'offerta abitativa dell'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo dal primo momento condiviso questa esigenza, vorrò che questo tipo di misura diventasse un modello per tutto l'Abruzzo, per un motivo molto semplice. Si uniscono due operazioni, una di carattere sociale, molto impattante a livello sociale e una di carattere infrastrutturale. La vendita e il riscatto porteranno alle casse dell'ATER quasi 3 milioni di euro. Significa che questi 3 milioni di euro potranno essere investiti nella manutenzione delle abitazioni attuali, nell'acquisto o nella costruzione di nuove abitazioni per dare anche un'offerta abitativa alle fragilità sociali del nostro territorio anche di qualità. Cosa è cambiato rispetto al passato? Lo ha spiegato l'amministratore Isidori. Il problema erano i piani di alineazione delle case che non venivano condivisi con gli inquilini. Questa volta invece si è fatto il contrario, c'è stata un'indagine di mercato per verificare se gli alloggi potessero essere acquistati. Secondo Isidori questa operazione potrà essere ripetuta in modo ciclico. L'ammontare dell'operazione è di 3 milioni di euro circa. Abbiamo invertito l'ordine degli addendi, cioè non abbiamo indicato noi quali immobili vendere e poi segnalare agli inquilini se potevano acquistarli. Sovente accadeva che gli inquilini chiedevano di poter comprare degli immobili e veniva loro detto che non rientravano nel piano di vendite. Invece con l'assessorato abbiamo fatto esattamente l'inverso, cioè abbiamo chiesto chi fosse interessato ad acquistare e abbiamo predisposto un piano vendite sulla base di questo interesse manifestato. Dunque crediamo di essere venuti incontro alle esigenze di tante famiglie, 678 alloggi, sono 678 famiglie che potranno acquistare questa abitazione.